Loreto, San Decenzio, Via Lamarca, Via Gradara e Via Milano. Questi sono i sottopassi che verranno coinvolti dal progetto Sottopassaggi di Arte Urbana, un'idea pensata dal Comune di Pesaro per riqualificare aree di transito del centro urbano che troppo spesso vengono trascurate in situazioni di degrado. Un intervento di miglioramento estetico dei sottopassi cittadini che avverrà grazie alla realizzazione di murales, il tutto per regalare un'immagine colorata e pulita alla città. L'iniziativa, nata dal coordinatore 20 del Comune di Pesaro, Massimiliano Santini, partirà verso giugno dal sottopasso di Via Lamarca, per poi proseguire con quello di Loreto a luglio e quello di Via Milano a settembre, mentre gli altri punti verranno ultimati nel 2022. Le operazioni di restyling verranno realizzate solo nelle ore notturne, circa dalle 23 alle 5 per limitare disagi al traffico. Gli artisti locali e nazionali coinvolti dal progetto svilupperanno quindi opere di street art dedicate alla valorizzazione di Pesaro, freggiandola di pittura e creatività. Io amo particolarmente l'arte di strada, non gli scarabocchi, non quelli che si divertono a rovinare i muri delle case private e gli edifici pubblici, però penso che gli artisti che lavorano sulla street art sono veramente ragazzi geniali e bravi, quindi devono avere in qualche modo la loro vetrina, una città importante come la nostra. Stiamo adesso in questi giorni anche colorando, dando un tema alla ex fontana del Parco Miralfiori, se fate un giro potete vedere c'è già l'artista che ci sta lavorando e quindi ci piace pensare di avere una città più pulita ovviamente come desiderio di tutti e anche un pochino più colorata.